Un ambasciatore di Dio accanto a noi, un difensore, un aiuto inviato dal Signore che va ascoltato con docilità e del quale bisogna avere rispetto. Così il Papa, nella messa a casa Santa Marta, ha descritto l'angelo custode nel giorno in cui la Chiesa ne celebra la festa. Prendendo spunto dalla prima lettura, tratta dal libro dell'Esodo, Francesco ha rimarcato l'importanza e il ruolo degli angeli custodi, simbolo della fedeltà di Dio. A loro ha detto nulla è nascosto, nemmeno le cose brutte, le trasgressioni. Essi non abbandonano mai le creature a loro affidate e Dio ce li invia per guidarci sul suo cammino, ma anche per liberarci, allontanarci dalla sventura e dal timore. Però è bene, ha affermato il Pontefice, che ognuno si lasci consigliare da questi compagni senza montare in superbia, piuttosto usando l'umiltà dei bambini. Chiediamo oggi al Signore la grazia di questa docilità, di ascoltare la voce di questo compagno, di questo ambasciatore di Dio, che accanto a noi nel nome Suo, che siamo sorretti dal Suo aiuto, sempre in cammino. E anche questa messa con la quale noi lodiamo il Signore, ricordiamo quanto buono è il Signore, che è giusto dopo, dopo aver perso l'amicizia, non ci ha lasciato soli, non ci ha abbandonato, ha camminato con noi, col suo popolo, e anche oggi ci dà questo compagno di cammino, per la prima volta in più. dopo aver guardato il Signore, la prima volta in cui non ci ha lasciato un viaggio. Grazie a tutti